Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento questa splendida Infiniti FX37S, è un 3.6 benzina V6, 320 CV, naturalmente aspirato, vettura con 98.000 km, originali tutti completamente tagliandati presso rete ufficiale Infiniti, immatricolata nell'anno 2013, ruota in lega da 21 pollici, vetri posteriori oscurati, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera a 360 gradi, vettura mai sinistrata, vi mostro gli interni, naturalmente accesso Killes Go, sedili sportivi in pelle nera traforata, sono riscaldabili e ventilati, volante multifunzione, abbiamo anche Cruise Control e Adaptive Cruise Control, abbiamo un mantenimento della corsia, ecco i 98.600 km, sistema di navigazione satellitare cartografico, climatizzatore automatico B-Zona, sospensioni regolabili, specchi auto anabbaglianti, impianto Bose Sound, tetto apribile in cristallo, vi mostro anche il sedile posteriore, in tonso, vettura disponibile in pronta consegna, possibilità di montare impianto GPL volendo, vi aspetto Gusago presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. Grazie!